Buongiorno, ben trovati appuntamenti. Buongiorno, ben trovati appuntamenti. E poi a centropagina, come sempre, come ogni lunedì, grande spazio sui giornali ma anche nella nostra edizione di oggi allo sport. In questo caso si parla del Pescara che è reduce dall'ennesimo pareggio, dall'ennesima vittoria mancata. Pescara che pensa al mercato di gennaio, rosa da sfoltire e da integrare secondo i desideri di Zeman. E poi vediamo le altre notizie. Primo piano, nuovo colosso del commercio, via ai lavori. Si parla dell'area del Megalò 2, dunque a Chietiscalo. E poi casa, riparte il mercato in Abruzzo. Buoni segnali per quanto riguarda il mattone. E poi gli altri titoli a Pescara, rogo in nepotto, così ci hanno salvati. Parlano gli inquilini del Palazzo, che si trova proprio in Piazza della Rinascita, dove sabato pomeriggio si era sviluppato questo incendio. E poi sempre a Pescara si parla di sanità, dell'ospedale, del nuovo pronto soccorso. Cosa cambierà? Tra l'altro cambierà anche il traffico, proprio nella zona vicina al Santo Spirito. E poi a Montesilvano, in Via Spagna, troppi pericoli per i pedoni. Altri due richiami di sport. Parlano a nuoto di Fulvio, giornata memorabile. I tre fratelli segnano 14 gol, famiglia di pallanotisti abruzzesi. E poi la Serie A, il calcio con il pari Beffa del Milan, raggiunto al 94esimo a Benevento, sul 2-2 da una rete del portiere della formazione campana Brignoli. E poi l'Inter sorpassa il Napoli, in vetta la formazione nera-azzurra, dopo quasi due anni. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Chieti Lanciano Vasto. Università, ricorso contro le tasse per Kodakons e Udu. I rincari all'Università d'Annunzio degli ultimi dieci anni sono illegittimi. E poi a centro pagina, il richiamo di sport riguarda la Serie D. L'Avastese, che continua a sognare, poker, ieri al Campobasso, 4-0. Il risultato finale per la squadra di Gianluca Colavitto, al 91esimo, Tafferugli, fra le due tifoserie sassate contro le auto. E poi ancora sport, in eccellenza, pari casalingo per il Chieti con il paterno. L'Angelini resta un tabù. Vediamo le altre notizie che riguardano non lo sport ma la cronaca. Chieti, genitori furiosi per lo scuolabus a Singhiozzo. E poi Vasto, la regione ridà la corrente al Cotir in crisi. E poi Lanciano, lavori sul corso, programmati con i negozianti. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Teramo. Questa notizia che riguarda il cadavere di un 24enne che è stato trovato sulle rive del fiume Tordino. Misteriosa tragedia a Casemolino, vicino il cadavere. Si trovava la BMW della vittima. Sono in corso le indagini. Poi vedete a centro pagina la Domenica dello Sport. In questo caso si parla del Roseto Basket che finalmente riesce a regalare la prima gioia ai suoi tifosi. E battuto Loiesi in casa al Palamaggetti. E poi Giulianova, investimento mortale. Indagato l'automobilista, vedete nella foto la vittima, Mario De Beneglitis. E poi Montorio, perseguita l'amica, arrestato un terramano. E poi crisi al comune, siamo a termo, mediazioni fallite, brucchi verso l'addio. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Ladro in trappola con un chilo d'oro, colpi all'Aquila ed Avezzano, refurtiva e arnesi nell'airbag modificato. La Domenica dello Sport che vede in primo piano, in vetrina, L'Avezzano. Che non si ferma più, i ragazzi del Presidente Paris sono andati a conquistare il risultato pieno sul campo del San Marino. Per l'Aquila pare invece all'ultimo respiro, al 95esimo, a Pineto. Poi rugby, l'Aquila prova di forza nel derby. La Gran Sasso deve arrendersi. E poi le altre notizie che riguardano il centro storico dell'Aquila. Patto fra residenti e commercianti. Poi Avezzano, case del sesso, l'inchiesta ora si allarga. E poi si parla della diocesi di Sulmona-Valva, perché il vescovo Fusco a Sulmona arriverà dopo il 4 gennaio. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Case antisismiche nel degrado. L'Aquila, travi, marce e infiltrazioni idriche nelle abitazioni evacuate a fine maggio. I consulenti della Procura hanno individuato gravi carenze negli edifici di Coppito. A tal proposito, a proposito di case antisismiche e di terremoto, vi dobbiamo una notizia della notte scorsa, perché alle mezzanotte 34 c'è stata una scossa registrata ad Amatrice del 4.2 con Epicentro, proprio vicino la cittadina Laziale. Le repliche che si sono susseguite durante la notte scorsa, come leggiamo da questa notizia dell'Ansa, sono state localizzate tra le province di Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila, Perugia e Macerata. Tra le scosse della notte, dopo quella di mezzanotte 34, di 4.2, quella più forte è stata di magnitudo 2.1 alle 2.41 con Epicentro a 3 km da Amatrice, non si segnalano fortunatamente danni a persone o cose, ma soprattutto nell'Aquilano, ovviamente in tanti hanno sentito la notte scorsa questa scossa di terremoto. Torniamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, Giulianova falciato da un'auto, sigilli ai pali della luce e poi Pescara, task force per combattere l'evasione fiscale, in basso, maltempo, maxi grandinata nel weekend in Val Vibrata e poi l'articolo del lunedì, il fondo della prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, cooperazione Tajani all'Aquila per i risultati del progetto IPA e dunque ci sarà l'importante presenza del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani all'Aquila. In alto vediamo i richiami delle pagine sportive, l'abruzzese Gravina si candida Presidente della FIGC, dunque un abruzzese potrebbe salire sul gradino più alto della Federazione Italiana Gioco Calcio, attualmente Gabriele Gravina è Presidente della Lega di Serie C, poi la Serie B Pescara Dubelfast in attesa del mercato, ma bisognerà attendere ancora prima dell'apertura delle trattative per la finestra invernale del mercato, Serie D Vastese, Francavilla e Avezzano, successi show. Poi vedremo ovviamente come sempre nella seconda parte i servizi sulle partite giocate ieri in Serie D, siamo all'edicola nazionale, partiamo dal Corriere della Sera, politica Grasso Renzi sfida a sinistra, debutta la lista liberi e uguali del Presidente del Senato, il PD un favore a Lega e centrodestra, dunque polemica all'interno invece del centrosinistra, e poi a centropagina grandi richiami di sport, con tante pagine all'interno del Corriere della Sera sulla giornata calcistica di ieri in Serie A, Inter prima e sabato c'è la Juventus, il portiere che segnò al Milan, ovvero Alberto Brignoli, che ha negato al debuttante Gattuso sulla panchina rossonera la vittoria all'esordio. Repubblica, Grasso in campo, Pisapia lo sfida, alleanza con il PD, leader di liberi e uguali, siamo il voto utile, ha detto Grasso, Renzi comanda da Lema, un favore a Lega e Forza Italia, sinistra e Movimento 5 Stelle, i neonazi da mettere fuori legge. E poi andiamo a vedere il fatto quotidiano, Grasso mi hanno offerto posti, il PD voleva comprarlo, scrive il fatto quotidiano. E poi a centropagina, Renzi scaricato da tutti, si vendica contro manager politici e tecnici. Siamo alla prima pagina del messaggero nazionale, statali stretta su molestie e regali, nel nuovo contratto, licenziamento subito in caso di atti gravi a sfondo sessuale di doni, oltre 150 euro. E poi a centropagina, sinistra, Grasso leader, primo duello, vedete con il Partito Democratico, Renzi, il capo, dice il segretario nazionale del PD, e da Lema. E poi a centropagina, anche in questo caso richiami di sport, soprattutto con il successo, in questo caso, della Lazio, sulla Sampdoria, allo stadio Luigi Ferraris, all'ultimo assalto. E siamo al quotidiano libero, Trump può salvare l'Italia, Donald straccia l'accordo sull'accoglienza, i profili formato da Obama, cozza, dice il presidente americano, con la mia politica. E poi Icardi porta in cielo la sua Inter, nerazzurri irresistibili, soli in vetta, se c'è una Milano che ride, quella nerazzurra, c'è anche una Milano che piange, quella rossonera, con il Milan che non è riuscito a vincere, neanche con il Benevento, che fino a ieri non aveva conquistato neanche un punto in campionato. Siamo alla stampa di Torino, Grasso leader, il PD strappo istituzionale, a Roma il battesimo di liberi e uguali, Renzi l'ennesimo partitino, ininfluente, queste le parole dell'ex premier. E poi c'è un'inchiesta della stampa sugli impieghi low cost, la classifica di quelli meno retribuiti, schiavi del lavoro a 4 euro l'ora. E poi una notizia che riguarda la Siria, svolta di Putin, presidente russo, via entro marzo, Mosca vuole un accordo sul dopoguerra, entro le elezioni russe, tocca al ministro Lavrov trovarlo, e il nodo riguarda la sorte del presidente della Siria, Assad. Il tempo dell'utria un tumore, liberatelo, le relazioni mediche, incompatibilità dell'ex senatore con il carcere per i problemi al cuore, ma i dottori hanno trovato anche un cancro alla prostata, domani la decisione dei giudici. E poi vedete a centropagina, spari all'inviato di striscia la notizia a San Basilio, ma non fa notizia come la testata di Ostia. Siamo al sole 24 ore, università senza tasse per uno studente su tre, le classifiche del sole 24 ore sulle rette, negli atenei pubblici e privati, con l'area di esenzione, 15 mila iscritti in più quest'anno all'università. Andiamo a vedere il mattino di Napoli, chi molesta sarà licenziato, contratto degli statali, la misura scatta per recidiva o per particolare gravità. In alto, sorpasso Inter, Sarri cambia, i dolori d'insigne, c'è Zienischi nel Napoli, e poi la favola del portiere bomber per il primo punto del Benevento. Brignoli eroe per un giorno, suo il gol di testa al 94esimo per il pareggio del Benevento con il Milan. Siamo al quotidiano Il Giornale, pro di qualcosa non torna nella caduta di Berlusconi, l'ex premier, gli hanno fatto pagare i rapporti con la Libia. e a Repubblica, divorzio dei Benedetti Scalfari. Siamo al secolo, la storia continua, vedete in alto la foto di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si parla anche in basso della fiamma tricolore e del nuovo simbolo, lo vedete, di Fratelli d'Italia. Qualche giorno fa, Giorgia Meloni era stata iniziata anche a Pescara, è iniziata d'altronde ormai la lunga campagna elettorale. Siamo al secolo XIX, la procura di Genova sfida Putin, no all'estradizione del Taikon strumentale, l'accusa di omicidio. E poi, vedete, di spalla, grasso leader della sinistra, il PD accusa, uno strappo istituzionale, poi sul giornale genovese, il titolo che riguarda la Sampdoria, atterrata da due gol Beffa, Sampdoria che aveva sempre vinto in casa, in questa stagione ieri battuta a domicilio dalla Lazio. Abbiamo esaurito le pagine dell'edicola nazionale, dei quotidiani nazionali, possiamo tornare al centro per parlare del mercato del mattone. Siamo a pagina 2, casa, i segnali della ripresa in Abruzzo dopo la crisi, riprendono le compravendite, ma i prezzi degli immobili in Abruzzo sono scesi al minimo storico degli ultimi 8 anni. E poi parla l'esperto della FIAIP, troppe tasse sono triplicate dal 2012 e poi in basso in 6 mesi, vedete questo titolo, erogati mutui per 321 milioni, l'Abruzzo al quindicesimo posto in Italia con una diminuzione di 41 milioni rispetto ad un anno fa. E poi, il polo commerciale più grande d'Abruzzo, Megalò 2, tra 7 giorni partono i lavori, chiedi azione di forza della società SAIL di Bergamo che avvisa il genio civile e sfida WWF, Movimento 5 Stelle e Confcommercio. Vedete in basso, un approfondimento, sono 7 edifici su 30 mila metri, determinante la realizzazione della diga d'acciaio anti-alluvioni. Siamo alle pagine nazionali del centro, ma abbiamo già visto i titoli che riguardano la cronaca nazionale e internazionale, invece siamo a Pescara perché a primavera ci sarà l'apertura del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, rivoluzione per il traffico, Comune e Asle disegnano la futura viabilità anche per agevolare le ambulanze, una rotatoria tra via Fonte Romana, via Monte Faito e via Gole di San Venanzio e poi in provincia si parla sempre di sanità, di abete esperti a confronto con l'assessore regionale della sanità Silvio Paolucci e con il presidente Mascitelli dell'Agenzia regionale della sanità. Andiamo avanti, cronaca, siamo sempre a Pescara, noi salvati nel rogo e avvolti dal fumo i condomini del palazzo dove è scoppiato l'incendio dicono grazie ai soccorritori, l'aria era irrespirabile e le scale al buio. Questo incendio spettacolare ma che fortunatamente alla fine ha creato pochi problemi a queste persone, c'è stato qualche intossicato ma il pronto intervento di Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri ha permesso di poter salvare, comunque far uscire immediatamente i condomini dalla palazzina che stava andando in fiamme e poi sempre a Pescara in basso si parla di riqualificazione delle periferie adesso manca solo la firma per un finanziamento da 18 milioni e poi questa mattina la cerimonia con la Polizia Polizia di Stato che consegna alla BNL i fondi raccolti per il progetto Teleton. Ancora cronaca, siamo ancora a Pescara colpo in via del santuario immobilizzata e rapinata in tabaccheria due uomini con il volto coperto bloccano la commerciante e si impossessano dei soldi in cassa poi fuggono in auto e poi Viale Marconi investito sulle strisce 41enne in ospedale non è in gravi condizioni e poi allarme su una piattaforma ma è solo un'esercitazione un'esercitazione della guardia costiera anche a Pescara un ostello per i giovani stranieri una sede da aprire in città avviati contatti con operatori pubblici e privati la proposta durante la lezione sul turismo sociale a economia aziendale poi l'altro ieri seminario con gli studenti a Pescara al liceo artistico con Dacia Maraini vedete la foto degli studenti con la scrittrice e poi rimborsi per studenti fuori sede i contributi del comune siamo sempre a Pescara sono riservati anche ai ragazzi disabili domande da presentare entro il 18 gennaio del 2018 siamo alla pagina che riguarda l'area metropolitana di Pescara in alto non violenza premi ai ragazzi francavillese poi Montesilvano via Spagna troppi rischi per i pedoni la strada che corre parallela alla ferrovia non ha mai avuto i marciapiedi studenti e residenti costretti ad attraversare un sottopasso buio e insicuro e poi si parla di concessioni demaniali esperti a confronto alla camera di commercio di Pescara e poi in basso sindacato pensionati Foschi eletto segretario dell'UGL e poi anche Fiorilli aderisce ad azione politica l'ex vice sindaco nella giunta Mascia a suo tempo vice sindaco nella giunta Mascia siamo a Chieti università troppo costosa tasse e rincari illegittimi via le richieste di danni secondo Codacons e Udu gli aumenti delle rette degli Atenei sono fuori legge in dieci anni alla d'annunzio più 77% il rettore caputi dice noi abbiamo invertito il trend e poi inaugurazione dell'anno accademico Minerva all'arcivescovo di Chieti Bruno Forte e di Pietrantonio evento anticipato al 14 dicembre prevista la presenza del ministro Orlando centro di ricerca in crisi siamo a Vasto torna la luce al Cotir ma i dipendenti aspettano le risposte la regione comunica il riallaccio della corrente elettrica i lavoratori non si sono mai fermati ogni giorno risultati e poi sempre nell'area vastese ma a San Salvo patto con Tarnaveni per scambi economici e culturali è stato suggellato questo gemellaggio tra San Salvo e la città romena e poi in basso vasto gli allievi del Mattioli scrivono per Maraini saggi brevi ispirati alle tele del Davalos la scrittrice che abbiamo visto anche a Pescara incontrare gli studenti dell'artistico dice ragazzi datevi da fare per il vostro futuro siamo la pagina dell'Aquila e della Marsica sul centro lotta ai furti all'Aquila di Avezzano un chilo d'oro nell'auto del ladro seriale vedete questo titolo di apertura di pagina 15 nascosto nel vano airbag modificato scoperti dollari e arnesi da scasso raid segno nelle case fra la Marsica e l'Aquilano e poi case del sesso siamo ad Avezzano scoperte decine di annunci l'inchiesta si amplia donne orientali sudamericano dell'est e si prostituiscono in tutta la provincia in basso nasce all'Aquila un'associazione per il centro storico comprende commercianti e residenti i parcheggi costituiscono una delle richieste prioritarie la pagina di Teramo del centro misteriosa tragedia nei pressi di Castellalto cadavere di un cinese vicino al fiume Tordino un ventiquettrenne di San Nicolò a Tordino i vigili del fuoco scoprono la sua BMW incidentata poi i carabinieri trovano il corpo a 150 metri come detto oggi ci sarà l'autopsia per chiarire le cause del decesso e poi bloccato dalla bufera sul Gorzano Monti della Laga sci alpinista romano salvato a luna di notte dal soccorso alpino e poi stalker Teramano arrestato a Montorio vedete questo titolo in basso da un mese tempestava di telefonate la sua ex ieri era appostato con un coltello sotto la casa della donna siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere però insieme le pagine dell'inserto Abruzzo del messaggero lotta l'evasione task force in comune siamo a Pescara vedete il titolo di apertura a dicembre saranno assunti quattro esperti informatici per il recupero delle tasse non versate negli ultimi anni meno del 60% scusate dei contribuenti risulta in regola con la Tari alla scadenza dell'ultima rata del 30 novembre e poi la corambola ieri sull'asse attrezzato incidente da brivido vedete una macchina che dopo essersi ribaltate è andata a finire su un'altra auto tutti lesi fortunatamente le persone a bordo e poi lo scempio vandali nel mirino le discariche abusive spuntano ovunque e poi strade piste ciclabili periferie parte il piano a Pescara da 18 milioni di euro l'Aquila progetto case accoppito marce anche alcune colonne portanti consulenti nominati dalla procura hanno effettuato una serie di controlli acclarati infiltrazioni d'acqua piovane eppure errori in sede di realizzazione e poi anche sul messaggero ritroviamo questa notizia che riguarda questo ladro seriale che è stato acciuffato dagli agenti della squadra mobile nel SUV aveva un chilo di preziosi e poi Santa Barbara sisma di amatrice Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco medaglia ai primi vigili del fuoco e poi in basso bollette dopo la sentenza l'IRIS apre al comitato andiamo a vedere la pagina di Avezzano sul Mona siamo ad Avezzano si decidono le prime candidature al congresso dell'UDC presente il segretario nazionale Lorenzo Cesa che opterà per un posto in Parlamento Piccone ha scelto di tentare la strada per Bruxelles il parlamentare marsicano e poi per il collegio uninominale spunta il nome di Carlo Giolito in rappresentanza di tutto lo schieramento di centrodestra e poi Avezzano quel quartiere a luci rosse al centro della città in basso sul Mona spostati i fondi del sisma sugli impianti sportivi e poi Luco De Marsi in tribunale moglie sudigiri mette in fuga il marito e tornando in Valle Perigna sempre a Sul Mona da domani 250 bimbi nei container pronti masp allestiti all'interno del cortile dell'ex caserma Cesare Battisti andiamo a vedere la pagina di Chieti del messaggero il Ciapi dimenticato dalla politica ha bisogno di fondi parla il direttore Cacciagrano che invoca l'intervento finanziario della regione per un rilancio dell'ente di formazione e poi Vasto vedete l'articolo di spalla l'opposizione contesta il regolamento sui Deor e poi Lanciano i negozianti contro le troppe multe così la clientela se ne va agli Iper in basso incidente sull'asse attrezzato si schianta contro il Garrel è grave e poi Ortona appello di Ortona cambia rifiuti il comune aiuti agli agricoltori siamo alla pagina di Teramo di Teramo provincia sempre dal messaggero siamo a Teramo si parla di politica sindaco l'opposizione ci riprova oggi in 18 per far cadere Brucchi l'appuntamento è per le 12 stavolta presso il segretario comunale mancheranno Laverna e Milton di Sabatino firmata la pedonalizzazione di Corso San Giorgio e poi maltempo Alba sotto la Grandine salvato invece un escursionista bloccato sul Monte Gorzano e poi Montorio Alvomano stalker preso con un coltello a Giulianova nasce un gruppo Facebook arrabbiati per gli scarabocchi in basso ancora Giulianova incidente mortale sequestrati i tre pali della luce inoltre disposta l'autopsia sul corpo del pensionato investito siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport allora possiamo fermarci per qualche attimo poi torneremo nella seconda parte apriremo la pagina sportiva per vedere anche i servizi sulle gare di ieri giocate in serie D seconda parte di mattino 6 apriamo la pagina sportiva l'ampia pagina sportiva di mattino 6 del lunedì partiamo con i titoli dei quotidiani sportivi nazionali vedete la gazzetta dello sport Inter Boom Vittoria senza alcun problema 5 a 0 con il Chievo Inter che sale in testa alla classifica e poi Milan Boom invece Gattuso no Brignoli il portiere volante fa 2 a 2 e dunque l'Inter in testa alla classifica il Milan ancora lontanissimo dalla zona che riguarda la Champions League il Corriere dello Sport il Ringio e Di Brignoli colpo di testa del portiere il Benevento gela il Milan Juve eccoci Manital Chievo 5 a 0 l'Inter è prima da sola sabato derby d'Italia Spalletti siamo pronti e poi tutto sport Miailovic resta congelato si parla del Torino in questo caso delle squadre torinesi dunque anche della Juventus 5 giorni da campioni domani ci sarà Olympiacos Juve e sabato Juve Inter dunque 5 giorni importanti per la formazione bianconera e noi siamo alle pagine dello sport del centro la prima pagina dello sport riguarda il Pescara comunque i titoli degli argomenti che poi troveremo all'interno del giornale il Pescara è da rimodellare grandi manovre in vista del mercato di gennaio l'ex Michele Gel si dice manca un leader andiamo a vedere le pagine interne del centro diamo uno sguardo anche alle partite di Serie A Inter Chievo 5 a 0 Uragano Inter goleata e vetta solitaria tripletta di Perisic sedicesimo gol stagionale di Icardi con la Juve non sarà una sfida scudetto tende a smorzare gli entusiasmi il tecnico Spalletti poi in basso le altre gare Bologna Cagliari 1 a 1 Fiorentina che batte il Sassuolo per 3 a 0 non è andata bene a Iachini il neotecnico della formazione emiliana e poi Beffa Milan il Benevento fa 2 a 2 al 94esimo con il Portiere Milan che tra l'altro ha chiuso in 10 la gara per l'espulsione di Romagnoli clamoroso pareggio davvero per il Milan una stagione che sembra stregata e poi in presa della Lazio Sampdoria ribaltata squadra brucerchiata in vantaggio per 1 a 0 poi perde per 2 a 1 con la squadra di Inzaghi che sbanca Marassi e poi tornando a parlare dell'Inter l'ex allenatore Gigi Simoni è stato in Abruzzo ad Atessa ospite dell'Inter Club Mario Corso c'è questa intervista all'ex tecnico della formazione Nerazzurra ha presentato anche il suo nuovo libro campionato interessante ha detto Simoni ma la nazionale risente del fatto che i nostri talenti trovano poco spazio mi rivedo in Donadoni Ancelotti gente non presuntuosa all'Inter le maggiori soddisfazioni ha detto Gigi Simoni e siamo alla Pescara la crisi dei Biancazzurri Pescara da rimodellare grandi manovre a gennaio non solo Gans nel mercato di gennaio tanti altri calciatori verranno ceduti venerdì a Cesena in caso di passo falso il Delfino potrebbe ritrovarsi nei guai questa sera alle Pajot ci sarà una cena con i calciatori una opportunità per gli sportivi biancazzurri che avranno l'opportunità proprio di cenare con i calciatori del Pescara e ieri ci sono stati due posticipi in serie B uno ha avuto un risultato clamoroso ovvero la vittoria dell'Entella della Virtus Entella con il Bari per 3 a 1 e dunque non è imbattibile la formazione di Grosso evidentemente formazione Ligure che si è imposta grazie alle reti di Lamantia Troiano e De Luca l'ex tra l'altro di questa partita nel mezzo il momentaneo 2 a 1 firmato da Galano per i pugliesi e poi pareggio invece allo stadio Partenio Lombardi tra Avellino e Carpi 1 a 1 il finale al decimo del primo tempo il vantaggio dei padroni di casa con Molina al trentatresimo della ripresa per il Carpi pareggio siglato da Bakogu si parla ancora del Pescara nell'intervista in basso parla l'ex Biancazzurro Michele Gelsi la squadra non ha un leader Zeman in campo dice Gelsi vanno i giocatori e verso il match verità siamo alla serie C e si parla del Teramo che con il Fano la ripresa c'è nel prossimo turno dopo la sosta forzata ieri con il Fano saranno obbligatori tre punti la classifica è tornata preoccupante il doppio ex Florimbi i Biancorossi sabato possono vincere e si salveranno dice l'ex tecnico di Teramo e Fano e siamo alla serie D ma prima di andare a vedere i primi articoli sulla serie D andiamo a vedere anche le pagine di sport che riguardano il Pescara e il Teramo dal messaggero è un Pescara a double face vedete il titolo del messaggero la squadra è capace di mettere in mostra il meglio e il peggio di se stessa nella stessa singola partita Sebastiani se avessero perso li avrei presi a schiaffi dal mercato adesso si aspetta uno sfoltimento della Rosa e poi la notizia delle ultime ore che vi avevamo dato anche sabato nel post gara dello Stato Adriatico perché è stato firmato il preliminare d'acquisto del Pescara del centro sportivo Poggio degli Ulivi parla proprio Peppe De Cecco finalmente il tanto atteso centro sportivo proprietario dell'impianto di Città Sant'Angelo andiamo avanti si parla di Federcalcio in questo articolo di pagina 36 perché Gravina il dirigente abruzzese si candida per il dopo Tavecchio la rinascita del calcio potrebbe essere abruzzese e poi Borrelli Teramo attento al Fano il doppio ex non ha dimenticato l'amaro di Biancorossi mercato ripeto prova a sondare con il Cesena per Moncini e andiamo a vedere anche un articolo che riguarda il primo articolo che riguarda la serie D il derby di ieri giocato a Sulmona Nero Stellati San Nicolò pari e festival del gol lo scontro salvezza finisce 3 a 3 girandola di emozioni in campo possiamo vedere se la regia è pronta eccole qui prontamente in onda le immagini di questo derby giocato ieri il San Nicolò in maglia rossa Nero Stellati ovviamente in maglia nera Nero Stellati formazione di casa andata sotto per 3 a 0 che è riuscita a pareggiare una partita davvero incredibile con il vantaggio del San Nicolò lo vedete al dodicesimo con Di Benedetto partita che sembra mettersi in discesa per la formazione di mister Campanile e poi vedete ancora gli attacchi della formazione in maglia rossa ovvero del San Nicolò c'è anche un rigore in questo caso per la squadra ospite la munizione per il giocatore che è andato a commettere il fallo la battuta e il raddoppio segnato dalla formazione del San Nicolò e dunque come detto c'è la reazione però della formazione in maglia nera vedete alcune occasioni mancate dai giocatori in maglia nera e poi invece gli attacchi del San Nicolò che cerca di chiudere la partita vedete la terza rete segnata da Moretti 3 a 0 in questo momento partita che sembra virtualmente chiusa ma non è così perché c'è il Nero Stellati che va a colpire prima un palo poi ancora gli attacchi della squadra di mister Di Marzio vedete il primo gol segnato il 3 a 1 con Bruni e poi ci saranno altre due reti della formazione tra l'altro vedete il legno colpito dal Nero Stellati c'era stato già un palo tra l'altro per la formazione in maglia nera e come detto gli attacchi forsennati da parte della formazione in maglia nera con il San Nicolò che poi va a vedete c'è un'altra munizione e c'è questa volta il calcio di rigore per la formazione di casa con l'errore dal dischetto e dunque Nero Stellati che ha dilapidato anche un calcio di rigore poi ancora gli attacchi della formazione di mister Di Marzio c'è una punizione in questo caso con la munizione e poi l'espulsione per doppio giallo del giocatore del San Nicolò Monaco e poi vedete ancora azioni da parte dell'una e dell'altra squadra San Nicolò che va a mancare il gol il quarto gol con la parata del portiere parente e poi vedete invece l'attacco della formazione di casa che va ancora a sfiorare il gol ancora Nero Stellati in avanti la rete segnata dalla formazione di casa per il 3 a 2 e dunque Nero Stellati che vede vicina l'impresa del pareggio ancora l'attacco della formazione in maglia nera vedete il recupero della difesa del San Nicolò ancora Nero Stellati a sedio nel finale da parte della formazione Peligni ancora attacchi furibondi proteste anche per questo tocco probabile con la mano per un giocatore del San Nicolò e poi vedete ancora gli attacchi della squadra di casa e c'è in questo caso ci sono le proteste dei giocatori di casa ma viene assegnato il rigore che poi tra poco verrà trasformato da Cone per il gol del 3 a 3 la rete di Cone proprio al novantesimo per il pareggio del Nero Stellati dunque 3 a 3 tra Nero Stellati e Pratola queste le immagini della partita giocata ieri a Sulmona vedete lo vediamo tra qualche istante il titolo anche del centro Nero Stellati una rimonta tutta grinta partenza lo abbiamo visto al razzo del San Nicolò poi l'inseguimento al cardiopalma della squadra di casa al novantesimo pari Pratolano realizzato abbiamo visto da Cone su rigore andiamo a vedere anche gli altri articoli delle gare di ieri un avezzano titanico rifila tre sberle anche al San Marino Biancoverdi sempre più lanciati blindato il quarto posto Deramo Show sigillo finale del solito Dosantos dunque 3 a 0 per la squadra di Marco Giampaolo e del presidente Gianni Paris nella Repubblica di San Marino e noi andiamo a vedere dunque il servizio che è stato realizzato dal nostro Andrea Costantini non si ferma la corsa dell'avezzano che passa come un rullo compressore anche allo stadio olimpico di Serravalle e segna altri tre gol in trasferta stavolta sul campo della sesta forza del torneo il San Marino netta la superiorità espressa dall'undici del patron Gianni Paris una superiorità tradotta in maniera concreta con le reti segnate a cavallo dei due tempi gran collettivo esaltato dalle qualità dei singoli con citazioni in questo caso per un super Michael Deramo Gian Paolo recupera Persia dalla squalifica ed è l'unica novità rispetto all'undici vittorioso di Recanati in panchina torna ad accomodarsi D'Ambrosio e con lui Branicchi ed il neoacquisto di Cursio nel San Marino il tecnico Orecchia cambia un solo elemento rispetto all'undici uscito in denne dall'Aquila c'è l'ex Chieti 5 al posto di Enrico 4-3-1-2 con il veterano Pestrini in cabina di regia l'avezzano parte con buona personalità anche se esagerando con le conclusioni della distanza peraltro con mira molto rivedibile come dimostrano i tentativi di Deramo al decimo e di Bianciardi al diciassettesimo a centrare finalmente lo specchio della porta è Cerone al ventitresimo il fantasista tenta un lob raffinato Fall ci arriva e blocca il San Marino raramente si fa vedere dalle parti di Lombardi al ventisiesimo è altissima la punizione di Nappello dopo la mezz'ora però l'incisività della compagine marsicana sale di livello e al trentunesimo Cerone serve Deramo che scocca un tiro a giro imprendibile per Fall ma che si stampa sulla traversa al quarantesimo il remake ma con esito diverso portentoso cost to cost di Sbardella che serve Deramo il quale stavolta mira e trova l'angolo lontano nulla da fare per Fall quinto gol per il talento avezzanese per lui un'annata sempre più da protagonista dopo un minuto l'Avezzano avrebbe la palla del raddoppio la recapita Pellecchia per Dos Santos che spreca da favorevole posizione ma l'Avezzano va con il vento in pop e bastano dieci minuti di ripresa per archiviare la pratica al settimo Moretti si incarta con il pallone Pellecchia in agguato glielo soffia e davanti a Fall non può sbagliare 0-2 con il quarto centro dell'ex Giuliese San Marino in bambola e l'Avezzano coglie l'attimo Deramo offre un pallone invitante per la corrente Dos Santos che stavolta non fallisce e la piazza nell'angolo regalandosi così la doppia cifra decimo gol in campionato per il brasiliano travolto dall'abbraccio vigoroso di tutti i compagni l'Avezzano rifiata il San Marino si fa vedere due volte dalle parti di Lombardi diciassettesimo Di Maio alza di poco sugli sviluppi di un corner ventesimo apprezzabile tentativo acrobatico di Conti ma poco fortunato diciannovesimo Giampaolo dà spazio al rinforzo del mercato di Curzio rileva Dos Santos applauditissimo dal drappello di tifosi marsicani accorsi all'ombra del Titano e che per poco al ventunesimo non esultano ancora sulla combinazione Deramo-Lombardo-Cerone come ha recanato gli ultimi 20 minuti di gara più recupero sono solo Accademia condita dalla girandola di Cambi undici risultati utili consecutivi per la squadra di Giampaolo in forma esaltante e a questo punto nessun traguardo è precluso e questo è il servizio sulla vittoria esaltante dell'Avezzano che non si ferma e consolida il quarto posto vittoria ottenuta a San Marino vittoria importante a pochi chilometri da San Marino per il Francavilla in casa della Visse Pesaro Francavilla Spavaldo compie l'impresa estende la Visse decide Molenda rete al tredicesimo del secondo tempo i giallorossi riavvicinano la zona playoff Marchigiani in prima volta senza segnare come detto stop dopo sei vittorie per la formazione marchigiana allora possiamo andare a vedere le immagini il servizio su questa vittoria ottenuta dalla squadra di Iervese al Bruno Benelli il servizio realizzato da Stefano Recanati con un gran gol di Molenda al cinquantasettesimo il Francavilla batte la Visse Pesaro per 1 a 0 Francavilla si presenta al Benelli di Pesaro con gli indisponibili Fofanà Amenta Cichella Fiore Salvatore Sanseverino e Silvestri ma recupera Mancini Dipentima e Mere con quest'ultimo subito in cabina di regia prima azione di marca locale al decimo minuto cross di Bellini colpo di testa di Buonocunto che non inquadra lo specchio della porta al minuto 24 bella azione centrale della Visse ma al momento della conclusione Cruz cincischia troppo e la conclusione viene ribattuta dal difensore del Francavilla ventottesimo minuto Banegas ci prova dalla distanza servito bene da Yussef ma al suo tiro si perde al di sopra della trasversale difesa da Marfella partita che stenta a decollare ed il Villa che interpreta bene la gara contro la vice capolista Pesaro al minuto 34 Galli si defila sulla sinistra ma il suo cross è telefonato e finisce tra le mani di Marfella Villa che prende fiducia e al 39 Galli ci prova ma Rossoni salva a portiere battuto secondo tempo che si apre con gli stessi 22 in campo e Palumbo al 57esimo con una conclusione di sinistro stava per gelare lo stadio Benelli ma dal calcio d'angolo seguente è Molenda a portare in vantaggio il Villa difesa che respinge ed il numero 14 non ci pensa due volte stop di petto e al volo fa partire un tiro di sinistro che si inzacca alle spalle dell'incolpevole Marfella per l'erogol di giornata da qui in poi il Villa gestisce la gara con la vice che fa fatica a trovare sbocchi in avanti doppio cambio al 67esimo fuori due attaccanti Banegas e Galli e dentro Zerbo e Velardi con Palumbo che va ad agire sul fronte d'attacco minuto 80 vicino al gol il Francavilla tiro da fuori di Milizia da rivedere la respinta di Marfella si avventa sulla ribattuta Zerbo super la respinta del portiere ma il gioco era fermo per fuorigioco al minuto 85 Mancini vicino al gol del raddoppio azione di contropiede del 99 entrato da poco in campo calcia di destro ma è super la risposta di Marfella che mantiene il risultato sullo 0 a 1 al novantesimo espulsione per Zerbo per Falone su Rossi che lascia i suoi in dieci uomini nel finale sei sono i minuti di recupero e proprio al novantaseiesimo la vis recrimina per un rigore per un presunto fallo di mani di Romeo in area giallorossa vittoria fondamentale al triplice fischio per il Francavilla che batte la vice capolista Pesaro grazie a una partita tutto cuore e grinta e dà una risposta importante a società e ai suoi tifosi e domenica al Vallanzuca arriva la San Giustese vediamo anche dal messaggero come si commenta questo successo in terra marchigiana per i giallorossi Francavilla da trasferta non perdona colpaccio a Pesaro sesto successo lontano da casa decide Molenda e altro derby di giornata quello giocato ieri al Mariani Pavone Pineto e l'Aquila 1 a 1 il finale pari Aquilano al novantacinquesimo i padroni di casa segnano con Di Rocco e vengono raggiunti da Boldrini in extremis dunque le immagini il servizio di Roberta Di Sante per vedere quello che è accaduto nel derby di ieri a Pineto Quando sembrava che il derby del Mariani Pavone ovesse ormai preso la via di Pineto Boldrini in pieno recupero si inventa la pennellata perfetta strappando gli applausi della tribuna e negando ai biancazzurri la gioia dei tre punti Pineto l'Aquila si apre con qualche novità sulle due formazioni ritorno al 4-3-3 per Amaolo che sostituisce lo squalificato ex di giornata Pepe con Orlando getta nella mischia il neoattaccante Simone Tomassini arrivato in settimana dall'Aquila Montevarchi e rinuncia a schierare dal primo minuto Bisegna che lascerà il club biancazzurro per tornare a vestire la maglia dell'Avezzano stessa sorte sulla sponda rosso-blu per Valenti non convocato e dato anche lui in partenza Battistini si affida al 3-4-3 inserendo in avanti Boldrini Fabrizi e Padovani avvio bruciante del Pineto che al terzo minuto chiama al doppio intervento Farroni prima sulla conclusione dell'ex Zane e poi sul tentativo ravvicinato di Esposito la partita è combattuta e agonisticamente ben giocata dalle due compagini che si danno battaglia a centro campo ma non riescono a pungere negli ultimi 16 metri al 31esimo Bister Battistini ha un eccesso nel protestare e viene allontanato dalla panchina rosso-blu le redini della squadra vengono prese dal vice Greco passano 5 minuti e gli ospiti si fanno pericolosi con un insidioso traversone dalla sinistra per Padovani sul quale è provvidenziale l'intervento in anticipo di Pomante botte risposta al 41esimo il solito pezzotti dalla sinistra serve questa volta a Cercelluti che se ne va per vie centrali e fa partire la conclusione ma trova ancora una volta la pronta risposta in tuffo di Farroni sul capovolgimento di fronte e invece Pupeschi a sfiorare il vantaggio per il rosso-blu la prima frazione si conclude con il colpo di testa pericoloso di Tomassini che finisce alto una partita tatticamente bloccata come questa può essere sbloccata solo da un calcio piazzato che si concretizza al 23esimo della ripresa quando sul corner battuto da Pezzotti la sfera dopo la girata rimpallata di Orlando arriva sui piedi del neo entrato di Rocco velocissimo a ribadire in rete e ancora di Rocco al 25esimo potrebbe raddoppiare per il Pineto in contropiede ma Farroni intuisce l'angolo e dice ancora una volta no il Pineto ci prova anche al 36esimo ma esposito all'altezza del palo lontano non ci arriva di un soffio al 41esimo dopo uno scontro di gioco Mariani resta a terra per circa un minuto per poi uscire in barella dal terreno di gioco al suo posto entra Capocasa ormai la partita sembra chiusa e il Pineto pregusta già il ritorno alla vittoria ma al 45esimo Pomante commette fallo al limite dell'area sui Bojo Boldrini si incarica della battuta del calcio piazzato e con una punizione da Cineteca strozza l'urlo di gioia in gola ai tifosi pinetesi ne viene fuori l'ennesimo pari per i biancazzurri che domenica dovranno vedersela contro un Avezzano praticamente inarrestabile un pari quasi insperato che ha invece il sapore della vittoria per i rosso-blu Aquilani e tra le abruzzesi brilla sempre più la Vastese Vastese terza in classifica a un punto dal secondo posto dopo la vittoria di ieri con il Campobasso tre gol la Vastese fa festa tre gol di Stivaletta tripletta per l'ex giocatore del San Nicolò quarto gol segnato da Leonetti e poker dunque dei Biancorossi alla formazione molisana pure protagonista di un primo tempo sicuramente positivo andiamo a vedere anche sul centro come si titola questo successo della squadra di Colavitto Stivaletta spazza via il campo basso la Vastese supera l'esame di maturità trascinata dal centrocampista idolo di casa secondo posto come vi dicevo ad un punto e nel finale e nel dopogara soprattutto sassate contro le auto alta tensione dopo il novantesimo in temperanze dei 300 tifosi arrivati dal Molise il tecnico Colavitto sul futuro dice possiamo divertirci allora possiamo andare a vedere noi invece il servizio su questa brillante vittoria della formazione aragonesa allo stadio Aragona Vastese batte Campobasso 4 a 0 marcia inarrestabile quella della Vastese allo stadio Aragona la squadra di Colavitto cinica e spietata non lascia scampo neanche all'ambizioso Campobasso vincendo per 4 a 0 e conquistando tre punti di platino che permettono ai Biancorossi di avvicinare la seconda piazza che dopo il K.O. Casalingo della Vispesaro ora vista solo un punto il passo della squadra del presidente Bolami è da record per i molisani autori di un ottimo primo tempo una brutta botta che arriva dopo gli ultimi acquisti che almeno in terra d'Abruzzo non sono però riusciti ad incidere nella vastese panchina per gli ultimi due arrivati tedesco e Cherillo mentre non c'è l'argentino Cristaldi che in settimana aveva chiuso in anticipo la sua avventura in bianco rosso il tecnico abruzzese si affida di fatto alla squadra che è in serie positiva da quasi tre mesi bel colpo d'occhio allo stadio Aragona per una gara molto sentita dalle due tifoserie in curva ospiti circa 200 i tifosi rosso-blu l'avvio di quello che può considerarsi un quasi derby è come prevedibile equilibrato all'ottavo la prima conclusione nello specchio della porta è di marca ospite con un tiro centrale di D'Agostino che non crea problemi a Camerlengo che poi al quarto d'ora è a dir poco prodigioso andando a respingere miracolosamente il tiro ravvicinato di Ribero dopo lo scampato pericolo Lavastese si riporta in avanti e al diciassettesimo è Nicola Fiore su punizione a chiamare alla respinta l'estremo molisano Landi le squadre dimostrano di temersi ma gli ospiti sembrano meglio disposti in campo e si rendono nuovamente minacciosi con Varsi al ventesimo che su punizione mette di poco alto passano pochi secondi ed è Camerlengo a salvare ancora su Varsi che semina il panico nella metà campo abruzzese visto che poi al ventiquattresimo è sempre l'attaccante ad andare a scheggiare il palo della porta di Camerlengo con un tiro angolato domina la squadra di Masecchia con gli abruzzesi sul fronte opposto quasi mai insidiosi si arriva così agli ultimi dieci minuti del primo tempo che vedono al trentasettesimo un bel contropiede di Bittae che poi crossa al centro con Stivaletta che va però a concludere fuori lo specchio ma il finale di primo tempo è dolce per Lavastese visto che al 46esimo Stivaletta da trenta metri si inventa un euro goal regalando il vantaggio alla sua squadra dopo tanta sofferenza nella ripresa si riprende senza sostituzioni e con i padroni di casa pericolosissimi al quarto quando Bittae ancora in contropiede entra in area e poi serve Leonetti che non riesce però a concludere ma il raddoppio è rinviato di qualche secondo visto che al sesto è Stivaletta dai venti metri a beffare ancora Landi per il 2 a 0 locale che fa esplodere la gioia dei mille presenti allo stadio Ragona per la squadra di Colavitto la gara si mette in discesa anche perché gli ospiti si disuniscono non riuscendo di fatto a reagire al quarto d'ora il campo basso chiede un rigore in un'azione in mischia in area bruzzese con Pascarella di Nocera Inferiore che lascia proseguire e con i padroni di casa che se ne vanno in contropiede andando poi a realizzare con lo scatenato Stivaletta il gol del 3 a 0 che chiude con largo anticipo la sfida con il campo basso che si disunisce ulteriormente per l'ex giocatore del San Nicolò ma vastese doc è una gioia incredibile gli ospiti dopo aver accusato il colpo si rivedono al 26esimo con Ribero che in area conclude però clamorosamente alto in campo non accade molto fino al 35esimo quando D'Agostino su punizione crea qualche patema camerlengo che smanaccia il pallone in angolo D'Agostino ci riprova poi al 38esimo e sempre su punizione con l'estremo abruzzese che respinge ancora il pallone si arriva così al 39esimo quando nella più classica delle occasioni di contropiede la vastese va a piazzare il poker con la rete di Leonetti che va a rendere ancora più rotondo il punteggio poi al 91esimo c'è un penalty per il campo basso per un fallo in area della vastese di De Feo su Cragbo ma il pararigori camerlengo dice no ad Agostino a coronamento di una grande giornata e così al triplice fischio finale dell'arbitro campano può esplodere la festa dei tifosi della curva d'Avalos pronti ad invadere domenica prossima Recanati per continuare ad inseguire un sogno e sogna sogna la vastese domenica come ascoltavamo dal servizio ci sarà questa trasferta tutt'altro che semplice in casa della Recanatese che ieri ha perso nel finale per 1-0 in casa della capolista Matelica siamo al campionato regionale di eccellenza vediamo cosa è accaduto Chieti in casa non sa più vincere 1-1 con il paterno e poi le altre gare Acqua e Sapone Montorio 2-0 Capistrello Riverchietti 2-0 Miglianico Alba Adriatica 0-0 e poi Real Giulianova Torrese 3-3 pareggio pirotecnico al Rubens Fadini con i giallorosti che restano sempre a più 6 dalla seconda dunque un pareggio comunque importante per il Giulianova per rimanere in testa con ampio margine sulle inseguitrici e poi Penne Spoltore 3-3 Amiternina Angolana 1-0 Martinsicuro San Buceto 2-1 Cupello San Salvo 4-1 andiamo a vedere la promozione il girone a Alba Montaurei Virtusteramo 1-3 Pontevomano Fontanelle 3-2 San Gregorio Mosciano 6-0 Colonia Nuova Sant'Egidiese 2-2 Morrodoro Luco 1-2 Pucetta Notaresco 3-0 Tossicia Celano 1-1 Sant'Omero Palmenze Rosetana 0-2 Piano della Lente Mutignano 0-1 Il girone B Il Delfino Pescara Sulmona 2-1 Villa Casalbordino 2-1 Palombaro Bucchianico 0-1 Virtus Pratola Sporting Casolana 0-0 Passo Cordone Fossa Cesia 4-2 Raiano Fater 2-0 Sporting Celano Ortona 1-3 Valdisangro Real Treciminiere 2-0 Castiglione Valfino Piazzano 2-1 Vediamo le classifiche per i primissimi posti in eccellenza Giulianova Real Giulianova al comando con 36 punti Martinsicuro 30 Paterno Spoltore San Buceto 29 Promozione Girone A al comando Ponte Vomano con 37 punti Virtus Teramo 33 Luco 32 San Gregorio Fontanelle 31 In promozione ma nel girone B Ammucchiata in testa con Valdisangro Ortona Casalbordino e Delfino Pescara con 29 punti Villa 27 Castiglione Valfino 26 Lasciamo l'ampia pagina del calcio per parlare di basket e di rugby Partiamo proprio dal rugby perché ieri si è disputato il derby tutto aquilano tra l'Aquila e Gran Sasso 34 18 il finale per l'Aquila Neroverdi trascinati da un irresistibile Nicola rettagliata tre mete gara nervosa espulso il tecnico Lorenzetti della formazione del Gran Sasso Troiani ho dato la sveglia nell'intervallo ha detto il direttore tecnico dell'Aquila in classifica Cavalieri Prato 25 l'Aquila 21 Gran Sasso ultimo a 9 punti e siamo al volley Sieco settima sconfitta a Cantù per l'Ortona domina le primo sette poi blackout per la formazione ortonese Ogurcac e Ottaviani non bastano quarto posto più lontano Cantù Sieco Ortona 3 a 1 i parziali 17 25 25 23 25 20 25 16 in classifica la Sieco resta a quota 17 nel prossimo turno la formazione ortonese affronterà il Taviano andiamo a vedere ora quello che è accaduto nel basket di serie B e poi dovremo recuperare anche la pagina che riguarda il roseto basket vediamo se la possiamo recuperare dal messaggero eccola qui Sharks finalmente la vittoria interrotta la serie nera contro Iesi oggi in doppia cifra e dunque primo successo stagionale importantissimo per Roseto che ha battuto Iesi al pala Maggetti torniamo al centro per vedere quello che è successo in serie B di basket Campli che si aggiudica di misura 72-71 il derby con Giulianova l'amatore cade a Matera per 77 a 66 Teramo mai in gara Civitanova decidono le assenze 89-61 per la formazione marchigiana infine sconfitta anche per l'Ortona che cade a Bisceglie per 85-68 e poi il podismo la corsa del panettone va ad Alberico di Cecco e a Capo di Casa in campo femminile dunque tutto per quanto riguarda l'appuntamento con lo sport siamo in chiusura con l'appuntamento di oggi con Mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8 io vi ringrazio per la cortese attenzione ringrazio Claudio Di Giacomo in regia e vi rinnovo come sempre l'appuntamento alle 14 per il nostro telegiornale grazie e buon proseguimento di giornata grazie